Sventato il furto ieri a Pesaro al magazzino della nota boutique Ratti, a seguito di una segnalazione di allarme proveniente dallo stesso magazzino, la centrale operativa di Vigilare ha identificato dai monitor delle telecamere esterne una banda composta da sei malintenzionati a volto coperto che si stavano arrampicando con delle funi sul tetto dello stabile. Tempestivamente sono state allertate tutte le pattuglie in servizio arrivate sul posto insieme alla polizia locale. I ladri sono riusciti a scappare soltanto dal tetto e scavalcando le recinzioni. A seguito di un controllo svolto dagli agenti della questura di Pesaro e Urbino e grazie al tempestivo arrivo delle pattuglie, dell'attivazione degli impianti di allarme e videosorveglianza collegati alla centrale operativa della Vigilare, i ladri non sono riusciti ad entrare nello stabile con l'intento di rubare mettendo questi ultimi in fuga.